Quando c'è bisogno ci devono essere delle persone che quando possono debbano dare una mano. È una tragedia immane quella che ha colpito l'Indonesia. Terremoto e tsunami insieme hanno provocato 2045 morti. Sono migliaia le persone disperse. Il bilancio delle vittime è sempre più grave. Un terremoto di magnitudo 7.5 e uno tsunami hanno devastato l'isola di Sulawesi lo scorso 28 settembre. E tra i 20 italiani in partenza per portare aiuti e solidarietà all'Indonesia ci sono anche due volontari aretini della Croce Rossa. La missione ha una durata massima di 30 giorni e noi dovremmo stare verosimilmente tre settimane e chiaramente andremo a garantire l'approvvigionamento alimentare dei soccorritori di Croce Rossa nel campo di Croce Rossa. Lo tsunami ha distrutto perlomeno nell'isola dove dovremmo andare noi, che è quella di Sulawesi. Ha distrutto praticamente tutto. La parte più colpita è quella di Palu, che è quella dove dovremmo poi essere stanziati noi. Quindi sicuramente non sarà uno scenario piacevole, sarà sicuramente qualcosa di abbastanza sconvolgente da vedere. Perlomeno questo è quello che credo, quello che mi aspetto. Ciascuno, ciascun volontario, sceglie nella sua vita di volontariato una branca, si specializza e quindi praticamente loro danno il loro rapporto che in questo caso è di essere molto preparati nel campo della ristorazione e quindi c'è bisogno di aiutare anche sotto questo profilo, questo paese. Un'opportunità che ci è stata regalata perché siamo stati formati e perché abbiamo fatto un percorso per fare questo. Quindi questo è quello che ci piace fare, questo è quello che sappiamo fare e questo è quello che andremo a fare.